E salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi signori siamo ovviamente su Fallout, ho visto il boom di giocatori che è tornato, siamo tornati anche noi, anzi sono tornato anch'io, ho rifatto tutta la storia da capore regolare, proprio basilare e sono qui per portarvi come al solito un piccolo aiuto, un piccolo glitch che vi aiuterà ecco diciamo in situazioni gravi, per esempio io l'ho dovuto usare per poter platinare il gioco, altrimenti ci avrei messo tipo un'eternità e noi siamo qui appunto per provarlo, tra l'altro guardate quanto è bella la nuova armatura che hanno inserito, tanta tanta roba, non ho ancora fatto tutte le cose nuove però le sto recuperando pian piano. Detto questo, se doveste essere in difficoltà in questa situazione a livello di tappi, oggi vi porto un glitch davvero molto molto interessante. Tutto ciò che dovrete fare, ora io sono all'interno del Vault ma potreste essere in qualsiasi altro accampamento, non ci sono problemi, aprite la vostra officina, glitch è facilissimo ragazzi, veramente molto facile. Andate, io in questo caso ho le mie cliniche qua per poter appunto aumentare la felicità ma non sarà necessario. Comunque andate sui negozi, lo faccio proprio in diretta, vi consiglio andare sulle armature perché sono quelle che costano obiettivamente di più, 3000 tappi quando poi le andrete a riciclare, comunque vi faccio vedere il tutto. Andate in un punto un pochino magari più tranquillo, se ce l'ho, si ce l'abbiamo, eccolo qua, andate qua, piazzate il vostro emporio di armature. Detto questo, cosa dovete fare? Ora state molto attenti, io non ho fatto nulla qua, vi avevo sbagliato. Dovrete cliccare ricicla e tenere premuto, ascoltate perché ho guardato un sacco di video in inglese che spiegavano sta roba, dicevano eh premi velocemente quadrato e cerchio e non funzionava. Invece dovete premere quadrato e tenere premuto subito cerchio, quindi ta, così, e tenere premuto. Continuate a tenere premuto anche in questo momento. Ora, come vedete, ci dirà che dovremmo riciclare, cioè possiamo riciclare il nostro emporio e sotto c'è subito il messaggio del riporre il nostro emporio, quindi accettiamo questo messaggio e accettiamo anche questo. Come vedete abbiamo riciclato il nostro emporio, abbiamo guadagnato 1500 tappi e ce l'abbiamo ancora al deposito. Quindi per rifare, che cosa facciamo? Ripiazziamo nuovamente l'emporio e rifacciamo la stessa cosa, quindi premiamo il quadrato e teniamo premuto il cerchio, ta, così. Ora magari se non vi esce la prima botta può darsi, però comunque sia abbastanza facile, al massimo non succede nulla e in tre secondi lo rifate. Quindi fate ricicla, bam, e abbiamo 3007. Se non vi fa più vedere nulla basterà chiudere ed aprire l'officina perché è molto probabile questa cosa. Niente di più, niente di meno, andate quindi riprovate, andate su papà, niente, ora voi non mi è riuscito, riprovate, ta, non mi è riuscito. Oh, allora, sa di di farlo sto glitch? Eccolo qua, mi è riuscito, perfetto. Quindi un po' di tentativi, poi io sono proprio un pollo, sì che poi sono tutto attaccato a questo microfono, c'è un bordello. Però comunque essenzialmente funziona, funziona ancora e continuerà a funzionare. Detto questo, signori, io vi saluto, spero che il video vi sia stato di aiuto e se dovesse essere stato così, mi raccomando, lasciate un bel like e scrivetevi se volete. Tanto per far numero, ragazzi, così siamo un po' di più, ci divertiamo. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video di Fallout, credo, anche perché mi ci sono trovato molto bene. Ah, volevo dirvi che questa è la nuova versione di Fallout, cioè appena aggiornato, quindi non è una cosa vecchia, proprio aggiornato nel 2024-25 aprile, quindi proprio nuova. Mi raccomando, non vi preoccupate. Ci vediamo in un prossimo video, vi saluto, ciao ciao.